L'Avellino Runner continua il suo momento di crescita, disputando gare su gare, sia in provincia che per la regione Campania, ma soprattutto per tutto lo stivale. La squadra del presidente Nando Romano ha ottenuto un ottimo successo nell'ultima edizione della Maratona di Paternopoli, dove ha portato in pista oltre 30 atleti ed ha ottenuto il premio di squadra e diversi premi individuali. Non solo Paternopoli, la società erpina ha preso parte anche ad altre maratone, su tutte quella di Sarno alla Straducenta e a quella di Subbiaco. Da venerdì si torna a correre. Gli evelinesi saranno impegnati nella provincia di Caserta, a San Nicola la Strada, la Kermesse che dal 2003 rappresenta un banto per la terra di lavoro. Poi ci sarà la tappa di Capitello Villammare, a Vibonati nel Salernitano e la Strano Lana, per finire nel prossimo fine settimana, tutti impegnati alla Maratona di Montefredane, che toccherà la frazione di Arcella, e per finire il prossimo 18 giugno con la corsa all'Auro. L'Avelino Runner è da sempre famiglia, famiglia del nostro amico e collega Luigi Salvati, che proprio a Paternopoli ha avuto due tifosi di eccezione, i gemellini Jacopo e Vincenzo, che da loro passeggini hanno fatto il tifo per il papà, che ha raggiunto tra le altre anche un ottimo risultato. Lo sport è bello proprio per questo, il calore della famiglia fa staccare ogni tipo di traguardo.